Il Presidente del Parlamento nazionale preferisce il Presidente della Repubblica FON di solvere il Parlamento. Il Presidente della Repubblica FON di solvere il Parlamento, se non ha dato, non ha dato il Parlamento di solvere il Parlamento. Il Presidente del Parlamento nazionale Aniceto Guterres, lui fosse Plenaria Semana, se non ha dato il Parlamento nazionale. Aniceto ha dato il assunto, il Presidente della Repubblica FON di solvere il Parlamento nazionale. Il Presidente del Parlamento, se non ha dato un decreso, non ha dato il Parlamento nazionale. Oggi il Presidente FON decide di solvere il Parlamento. Chefe banca da CNRT, Duarte Nunes, considera Fretilin Macassalto Poder, Tambahadau Mesa e Parlamento Nacional. Chefe banca da CNRT, Duarte Nunes, considera Fretilin, Deputado David Dias, Rezeita Assalto Poder, Maibé viabiliza ou de assegura a governação da Walu, todo o mandato termina. Chefe banca da CNRT, Duarte Nunes, considera Fretilin Macassalto Poder, Tambahadau Mesa e Parlamento. Marca una historia, Mesa, Presidente e Parlamento Nian Tohar e Aloron Sanulo Recensia, Fulan Mayu, Tinan Rihonrua, Ruanulo Liubá. Fátima Pereira, Elio Gayo, GMN.